Ma va! Ma chi l'ha detto? Dunque, vediamo. Eccolo qua! E uno. Eccone un altro. Eccone altri due. Matteo è un po' esagerato, però la nuova PowerShot SX500 IS è la nuova Super Zoom compatta Canon. Grazie all'eccezionale zoom ottico 30x consente di effettuare ingrandimenti mozzafiato dai 24 ai 720 mm di focale. Oltre allo zoom ottico da 30x, questa fotocamera è dotata di una risoluzione da 16 megapixel e un processore d'immagine Digic 4. Questo ci consente di effettuare dei video direttamente dal tasto dedicato in risoluzione HD a 720p. Per facilitare l'utilizzo dello zoom ottico da 30x, nel caso in cui perdiamo il soggetto, basterà schiacciare l'apposito tasto di Zoom Frame Assist per riportare indietro l'obiettivo. Una volta rinquadrato il soggetto, al rilascio verrà zoomato nella stessa posizione iniziale. 2 kg in 26 minuti. Non male!